Il forum Ambrosetti è giunto alla sua 38esima edizione e anche quest'anno, dopo la pausa estiva, apre la stagione autunnale dell'economia italiana con uno sguardo alla realtà europea e mondiale. Quali sono le novità e i volti nuovi di questa edizione? Le novità sono molte nella continuità, perché come ricorderete la struttura del forum è su tre grandi giorni, mondo, Europa, Italia. I protagonisti sono i più significativi esperti e responsabili dell'agenda europea e dell'agenda italiana. Abbiamo quattro commissari europei, da Barnier Almunia, da Olli Renna, Van Rompuy. Abbiamo otto membri del governo italiano, compreso il primo ministro Mario Monti, che come molti ricorderanno è stato un importantissimo protagonista di tutta la storia di Cernobbio, delle edizioni del forum Ambrosetti a Villa d'Est. Abbiamo Shimon Peres, il presidente dello Stato di Israele. Abbiamo l'onore di avere, sarà l'ultimo passaggio del suo settennato, il presidente della Repubblica italiana, napolitano, anche quest'anno, ad aprire in videoconferenza in diretta, come da tradizione, l'agenda sull'Europa, la discussione sull'Europa. Abbiamo anche aperto delle finestre su scienze, innovazione e tecnologia come motori per la crescita, come motori per lo sviluppo. E qui abbiamo il governatore del Texas, Rick Perry. Il Texas è rilevante perché è il paese negli Stati Uniti che ha generato più del 60% di tutti i nuovi posti di lavoro, non della pubblica amministrazione, di tutti gli Stati Uniti d'America. E poi c'è lo Stato di Singapore che rappresenta con la sua agenzia A-Star, che è l'agenzia di attrattività sull'innovazione, rappresenta le strategie di come un piccolo Stato, un piccolo paese, è riuscito a diventare centro mondiale di eccellenza per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. C'è il vicepresidente, il vicepremier turco e ministro dell'economia e della finanza, Ali Baba Can, che anche partecipa nell'ambito delle sessioni emergenti, e poi un numero molto alto di esperti, di economisti, il premio Nobel Diamond, che ha preso il premio Nobel sui suoi studi sul welfare e l'equilibrio dinamico tra welfare e sviluppo, e così via, una serie di altri esperti molto significativi. Mai come quest'anno, Cernobbio riveste un'importanza particolare vista la situazione economica. Monti gioca un po' in casa. Potrebbe partire proprio da Cernobbio questo piano per la crescita e per lo sviluppo che tutti si aspettano? Noi lo auspichiamo, cerchiamo appunto di offrire l'opportunità alla classe dirigente tutta, degli affari e della politica, di ragionare insieme a porte chiuse, proprio con l'ambizione di elaborare strategie vincenti da una parte, ma anche di comprendere meglio dove stiamo andando e che cosa ci aspetta. E quindi in questo senso, in questa direzione, vanno anche le quattro ricerche che noi presenteremo proprio a Cernobbio, che toccheranno le corde dello sviluppo infrastrutturale nel paese, in particolare con due focus, uno sulle ferrovie, uno sugli aeroporti, e il tema della smart mobility e delle città intelligenti, le smart cities, anche con esempi con il sindaco di Hong Kong, per esempio l'ex sindaco di Barcellona, e grandi esperti che attorno a questo tema si confronteranno. Una volta chiusi i battenti, cosa rimane di Cernobbio? Cernobbio, sono 38 anni che va in onda, con un successo crescente e con una lista di attesa, di richieste di partecipazione, sia dal mondo della politica che dal mondo degli affari, sempre crescente ogni anno e non solo a livello nazionale italiano, ma con richieste di partecipazione da tutto il mondo. Quest'anno vengono il CEO mondiale di Eli Lilly, il CEO mondiale di Ben Pepe Paribas, di tanti altri gruppi internazionali, di Goldman Sachs International e così via, moltissimi altri. Quello che deve rimanere è un arricchimento, nella qualità del dibattito e della conoscenza dei grandi scenari che colpiscono il mondo, Europa e Italia, un arricchimento per tutti coloro i quali vi partecipano. Noi non abbiamo l'ambizione o la ragione di esistere come altri hanno l'arroganza di avere, invece di scrivere le politiche o di incidere sulle politiche. Noi solleviamo dei temi, li portiamo a riflessione, cerchiamo di farlo anche portando delle evidenze, dei fatti, delle analisi, delle ricerche proprietarie che vogliono favorire questo dibattito, ma senza l'arroganza di chi ha la pretesa che lì si debbano necessariamente decidere cose, ma che ciascuno rientri al proprio ufficio, nelle proprie abitazioni, nei propri paesi, più ricco di come era entrato. Il mondo della politica è sempre stato presente a Cernobbio. Quest'anno la politica è fatta da ministri tecnici, economisti ed ex banchieri. Si parlerà di politica in maniera diversa? C'è un governo tecnico, ma che è sostenuto da un Parlamento che è politico per definizione, per sua natura. Ma anche guardando alla storia degli ultimi anni con i governi di centrosinistra o di centrodestra, sul piano della partecipazione noi abbiamo sempre avuto gli stessi numeri, 7, 8, 9 ministri del governo in carica ogni anno. Ma perché questo? Perché è un momento che è percepito come utile, anche a loro, per mettersi a confronto, per ragionare, per avere loro stessi input alle loro decisioni. E quindi da questo punto di vista non c'è stato governo che non abbia gradito o utilizzato anche questa scatola come momento di pensiero, come pensatoio. E auspico che anche questo governo, che è, come dice lei, tecnico, o più tecnico che altri in passato, possa fare altrettanto. Quindi usare noi, il nostro ambito, il nostro ambiente, come pensatoio, come momento dove anche portare a fattor comune riflessioni e valori e sfidarli con la classe dirigente.